Allora, il fatto di aver detto chiediamo di non allargare la classe C con ricetta è perché è un mercato non ispandibile. Faccio un altro ragionamento, oggi in qualunque trasmissione televisiva, sui giornali si parla degli evasori fiscali, giustamente. Allora, le farmacie e sicuramente anche le parafarmacie rappresentano una categoria che non fa evasione fiscale. Allora, io ho fatto questo semplice ragionamento, se la torta, è bruttissima questa, ma è per far capire ai cittadini, se la torta dei farmaci di classe C con ricetta è sostanzialmente sempre la stessa, oggi lo Stato, l'erario, riceve, perché in farmacia non si evade, riceve una certa percentuale di gettito, perché ci sono 18.000 farmacie. Se queste 18.000 farmacie fossero portate a 23.000, 25.000 o si fosse estesa al numero di parafarmacie, rimanendo ferma la stessa torta, il gettito fiscale si abbassa perché lo stesso imponibile viene allargato su più soggetti. Allora, quando il Ministro Monti dice che questo serve a far crescere l'Italia, dice una cosa che, mi spiace dirlo, nonostante abbia studiato la Bocconi, non corrisponde a un vantaggio per l'Italia, può corrispondere lo sconto su questi farmaci anche, però è da anni che le farmacie dicono che i farmaci che vendiamo sono troppo cari, bastava fare una cosa semplicissima, come avveniva in passato, c'era il Cipe, un organismo del governo che stabiliva i prezzi, premesso il fatto che i prezzi dei farmaci in Italia sono stabiliti non dai farmacisti in origine, dico, e neanche dai colleghi delle parafarmacie, sono stabiliti da un accordo industria e governo e possono essere modificati ogni due anni. Poi si può pensare di fare degli sconti, ma bastava semplicemente che si dicesse all'industria che nella filiera del farmaco, cioè da chi lo produce a chi lo distribuisce, si prende una percentuale gigantesca, del 67%, dire, signori, c'è crisi, dobbiamo abbassare i prezzi, non ci sarebbe stata nessuna contrapposizione e però questo i cittadini lo devono sapere. Se poi potrò dire ancora una cosa, vorrò togliere alcuni luoghi comuni che ormai in un'aggressione mediatica mai vista per un servizio sanitario come quello delle parafarmacie, si parla di casta, si parla di lobby e vorrei spiegare perché questi termini sono usati in modo improprio. Ecco, infatti una domanda che volevo fare, magari su questo ne parliamo fra qualche minuto, faccio solo replicare il suo collega. Grazie. Dunque, mi trovo d'accordo con la premessa del discorso economico, non mi trovo consenziente con la tesi come viene sviluppata dal collega e dalla Federfarma appunto. Se la premessa è che il farmaco non è un bene di consumo qualunque e anzi noi siamo i primi a sostenere questa tesi e anzi richiederemmo che anche nelle parafarmacie dove già avviene un controllo iniziale da parte dell'unità sanitaria locale per verificare i requisiti, ma che vengano anche estesi i controlli periodici che vengono fatti nelle farmacie, fatta questa premessa però il discorso è che la liberalizzazione non doveva eventualmente puntare a un effetto di svilire il farmaco come un qualunque bene di consumo perché proprio non avrebbe avuto ragione di essere. Doveva avere il significato di permettere una competizione sul prezzo anche su farmaci che come abbiamo detto attualmente non hanno un prezzo scontabile o meglio ce l'hanno dalla fine del decreto Monti in avanti e però anche lì ci sarebbe da ridire nel senso che in realtà non ci risulta che da un campione fatto nelle grandi città italiane le farmacie abbiano iniziato a scontare questi farmaci, non so se a voi risulta qualcosa del genere. Ma come accennavo il problema è se siamo in una società che sta vivendo dei mutamenti economici dove le famiglie sono anche in difficoltà, dove l'incisione sul reddito delle famiglie, in determinate famiglie il costo del farmaco di fascia C con ricetta è abbastanza rilevante nel termine di magari qualche centinaio di miliardi o almeno più di 100 euro all'anno. Cioè il termine, i risparmi che si potrebbero conseguire quindi potrebbero essere anche nell'ordine di più di 100-150 euro all'anno limitato a pochi individui, non ha senso fare una divisione fra tutti gli individui e dire allora risparmierebbero 10 euro a testa, per esempio in casa mia non si consumano che pochissimi farmaci di fascia C e quindi non avrebbe senso vedere risparmi in una famiglia tipo la mia. L'altro significato di valore se si fosse stesa la fascia C o una parte di essa, perché si parlava di questo, alle parafarmacie è che si sarebbe riprodotto probabilmente una piccola diminuzione di fatturato nelle farmacie che contrariamente a quanto è stato sostenuto da Federpharma, diminuiva e concludo, avrebbe diminuito i posti di lavoro ma riteniamo in misura molto ridotta, ma al contrario noi abbiamo 7 mila circa impiegati nelle parafarmacie dal 2006 ad oggi che rappresentano un'occupazione in più in Italia, quindi anche sotto il profilo occupazionale un certo effetto c'è stato. Ma parlando invece dell'aspetto economico abbiamo detto non ci sarebbe tutto questo risparmio dai farmaci di fascia C, ma nel decreto si parla anche dei farmaci generici, in merito a questo la posizione delle farmacie viene toccata? No, beh i farmaci generici credo che non rientrino in particolare in questo contesto, perché sono quelli che normalmente, ce ne sono anche in classe C con ricetta, sono piccoli, riguardano soprattutto il servizio sanitario nazionale, quello che il cittadino o la cittadina viene Quindi diciamo che voi siete il tramite per distribuirli, ma in realtà non vi tocca. Sì, sì, con la ricetta rossa tradizionale. Ma in realtà, scusa Andrea, mi sembra che c'è un invito. Sì, sì, sì. C'è un invito a prescrivere. Sì, nel decreto è previsto addirittura che il medico debba scrivere. Segnalare il principio. Anche qui sostengo, devo dare un'informazione. Allora, prima di quest'ultima parte, di un comma di questo decreto, per il farmacista di farmacia convenzionata non solo esisteva l'indicazione, ma l'obbligo, mentre mi spiace dirlo, su alcuni giornali, su alcuni forum delle parafarmacie si sono dette delle menzogne, dicendo i farmacisti non lo fanno. Quando si dice questo, bisognerebbe provarlo. I farmacisti hanno l'obbligo, per cui fino al decreto di oggi, di gennaio, noi abbiamo l'obbligo, per le convenzioni, di dire al paziente, il medico l'ha presito il farmaco X, per risparmiare noi le dobbiamo proporre la scelta sul generico di quel farmaco X. Poi la scelta è sua. Oggi questa postilla che il medico deve aggiungere sulla ricetta, al di là del fatto che ai medici non piace molto. E alle aziende farmaceutiche ancora meno. E alle case farmaceutiche ancora meno. Lei ha toccato il punto nodale. Fa semplicemente ribaltare il discorso, però posso garantire a tutti gli effetti che questo veniva regolarmente. Poi le farmacie sono 18 mila e non posso garantire che venga fatto in tutte le 18 mila, come il collega non può garantire che in tutte le parafarmacie, di cui peraltro non si conosce il numero vero, sinceramente. Ci sono delle diversità tra quello che viene detto dalle loro associazioni, per quel che riguarda l'Ista, per quel che riguarda... Comunque diciamo che l'obbligo esiste già e al momento la questione non dovrebbe toccarvi più di tanto. No, questa non tocca, è decisamente marginale. Abbiamo soltanto più tre minuti e volevo tornare su quello a cui accennava lei prima. Effettivamente quando si parla di scioperi di queste categorie, che possono essere i taxisti, gli autotrasportatori o i farmacisti e gli avvocati, si parla in realtà di battaglie campanilistiche. Ognuno cerca di proteggere il proprio giardino, non è così? No, voglio spiegare perché, allora permesso il fatto che questo non vuole influenzare i cittadini, permetto questo, il presidente nazionale di Federfarma, il presidente della FOFI, un altro collega ha ricevuto delle lettere minatorie con delle siringhe riempite di polvere da sparo e la miccia. A tutti noi che lavoriamo nel sindacato hanno dato alle forze dell'ordine indicazioni di fare attenzione se si ricevono. Allora non ho paura di queste cose, dico solo in tutto questo paese, in tutte queste questioni, l'ideologia, il clima di aggressione va lasciato da parte, non fa del bene a nessuno. Vengo alla casta e alla lobby. Allora si dice che i farmacisti sono una casta perché soltanto i figli o le figlie di titolari di farmacia diventano farmacisti. Allora siccome bisogna dare dei numeri, qui sulla provincia di Torino, ne so che è stato fatto in altre province italiane, abbiamo fatto uno studio dal quale risulta che soltanto il 26%, a Milano siamo al 20%, si passa alla farmacia di padre in figlio. Non vedrei questo delitto perché oggi provocare un disoccupato figlio di titolare piuttosto che altro il saldo è sempre uguale. Il 67% e più di trasferimento di titolarità viene per compravendita o nascita di società dove spessissimo in questa società ci sono i collaboratori, il resto è fatto per concorso. Altra cosa, i concorsi non sono i farmacisti che hanno la possibilità di farli dilatare nel tempo, sono delle inadempienze della regione che la regione deve, perché è la regione che deve organizzarli, istituirli e poi fare le graduatorie. Sulla comma dei concorsi anche Federfarma ha detto dovete sveltirli, bisogna fare un commissario ad acta, sono tutte proposte venute da noi, quando la regione perde tempo sostanzialmente. Abbiamo soltanto più un minuto, io volevo dare spazio anche a lei per un commento conclusivo. Sì, su qualcosa di specifico o in generale? Su questo discorso delle lobby piuttosto che di una lotta di categoria naturalmente. Certo, concordo pienamente con il collega che si sono raggiunti dei toni esasperati, ovviamente mi dissocio da tutte le espressioni di violenza, di minacce, talvolta ci sono i forum, ma penso che questo succeda anche in altri ambiti dove vengono espresse delle affermazioni che non sono provate come quella sui generici, io voglio credere al collega che invece ha tutta la mia fiducia. Secondo me comunque esiste un problema di lobby nel senso che comunque accedere all'esercizio della farmacia anche per chi dovesse acquistarla è dell'ordine di qualche milione di euro, quindi un problema di... Quella è una lobby di mercato però, non ci si può. Sì, però con un'estensione della fascia C probabilmente si sarebbe anche avuto un po' di moralizzazione su queste cifre. I concorsi non è che noi siamo contrari, ma hanno dei meccanismi, come diceva anche il collega, molto lunghi, temiamo che i risultati per i cittadini arriveranno dopo molti, molti anni. Perfetto, il tempo a nostra esposizione è terminato, io vi ringrazio per essere stati con noi. Grazie a voi. Grazie a voi e speriamo di essere stati utili ai cittadini. Ringrazio anche tutti voi da casa che ci avete seguito e arrivederci alla prossima puntata. E allora aria, aria pulita, sono semplici parole nel vento che va. E allora canta perché la vita regalare ancora sa un po' di felicità. E allora aria, aria pulita. Grazie a tutti.